Lui è Amadeus, viene da uno contro cento, e poi lui è Gurkuf, viene dalla Sukuni, che è una pianeta vicino... Comunque, maestro, non lo voglio disturbare più di tanto. Cosa ci vuole capire? Catterò un brano famosissimo, nuovo. Nuovo, si è fatto da punto. Ah, è uscito ieri il nuovo singolo che è uscito. Ma loro fanno qualche cosa insieme a lei? Lui loro faranno delle coreografie tramite il Tibet e lo Zazen e lo Shaolin, non so che cos'è. Poi sono curiosissimo anche perché voglio evitare gli ospiti della sua tournée, quindi ne parliamo ancora. Sì, sì, benissimo. Grazie per voi Franco Battiano. Una vecchia Bretonée con un pappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Anni di studio. Capitogni coraggiosi, furbi contro bambieri macedoni. Gessuidi o prie dei vestiti come dei bonzi per entrare a porte dei liberatori, dell'agnostia dei bimbi. Le mani sono concesse! Sì, c'è anche un ubriaco lì che sta facendo il terreno, un ubriaco! Ah, fa la track dance con le dita dei bimbi! Sta anche avendo rapporti sessuale con le piastre! Non sopporto i cori russi! La musica fin con l'anno è in Italia! Gets, fang, inglesi, anche l'ordine d'Africa! Gets, fang, inglesi, anche l'ordine d'Africa! La musica fin con l'anno è in Italia! Gets, fang, inglesi, anche l'ordine d'Africa! E' un bel guadagnolo! Un bel guadagnolo! Gets, fang. Un bel guadagnolo! Gets, fang. Grazie a tutti. Grazie a tutti.